Da Trieste alle coste polesane, l'emergenza si è solo attenuata ma non è conclusa, mentre le amministrazioni provvedono al conteggio dei danni e si guarda con apprensione ai fiumi che restano sempre gonfi. A Grado c'è un po' di respiro per una cittadina, la sua spiaggia e le sue strutture duramente colpite già da un paio di settimane fa, quando 180 mm in 6 ore avevano messo in ginocchio la località in provincia di Urizia con la pioggia. Il mattempo di martedì scorso ha poi sommerso il porto, l'ingresso al ponte girevole che collega ad Aquileia rendendolo momentaneamente impraticabile, mentre all'isola della Schiusa la marea era arrivata a bordo banchina. Da Bibione è stata lanciata la polemica da parte di alcuni operatori turistici che senza certezze tecniche hanno segnalato come quando, sia in funzione in Mose, registrano almeno 15 cm di acqua in più che invade la loro costa. Anche a martedì non avevano registrato con cause ma poco dopo che le barriere del Mose si erano alzate, a Bibione il mare si è alzato a punto di 15 cm. Serve quindi uno studio approfondito. Dai sindaci arrivano richieste che sintetizza il primo cittadino di Iesolo, Cristo Ferdazzotti. Volemmo comunque porre l'attenzione, e questo è un tema che riguarda non solo le amministrazioni comunali ma anche la regione, il tema della sicurezza idraulica che riguarda sicuramente la zona del litorale con l'approntamento di opere strutturali di difesa della costa ma riguarda anche e soprattutto la difesa idraulica dei fiumi e dei corsi dei canali che meritano attenzione e investimenti molto importanti. Ogni spiaggia ha i suoi danni alla battigia. Martedì il mare si è portato via almeno 130.000 m3 di sabbia dalle spiagge di Sottomarina e Isola Verde, 35 m3 di spiaggia al Lido di Venezia, 30.000 m3 di sabbia dal Lido di Iesolo dove è tutta da valutare anche la situazione lungo le rive dei fiumi e sulla laguna dove c'è il rischio che l'alta marea abbia danneggiato gli argini. Pesante inoltre la situazione alla spiaggia del Morte fra l'esola di Reclea, la potenza delle onde ha infatti fatto ulteriormente collassare i gradoni in cemento già danneggiati con il rischio che il mare penetri sempre più nella pineta.